Musica Ok, ciao a tutti ragazzi E benvenuti per questo nuovo gameplay online di Storm 3, qui col vostro Vale 93 Ba Allora, partita del giocatore Come si fa? Partita del giocatore Crea sessione A squadre, slot privato si Allora, oggi con me ci sarà Nicola138 E come faccio a invitare? Ah, era uno Ah, no, scegli fra gli amici Scusate se... Ok, invia E niente, speriamo che arrivi presto Mi aveva scritto nei commenti, mi ricordavo effettivamente il suo nickname su YouTube Bubble Tonto E avevamo già provato a fare qualche match assieme durante i gameplay di Storm 2 online Quindi, boh Vediamo un po' Ok Allora, allora, allora Come posso iniziare? Direi, direi Chi voglio utilizzare? Boh, non lo so Obito Sì Vai Obito Con Kakashi e Minato Yeah Un team che non ho mai usato sinceramente Anche perché... Oh mio Dio No Odio quei supporti Ma almeno non c'è... Coso Come si chiama? Kimimaro C'è Idan al suo posto Il che è molto molto meglio No, cazzo Oh, cazzo Dai Tobi No, cazzo Ah Ai, 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 ai Un po' di Chak Dai Eh no Odio le prese Le odio Con tutto me stesso No, non ho più Ah, ecco No Cazzo Ok Ok Opla Oh Oh No No Cazzo Pesa Pesa No Ah Dolore No Oh Peso Che culo Vada Boom Oh Ok Oh No cavolo Kakashi vai Oh che culo Vai Tobi Se ci provo persino io posso farcela Esatto persino tu Immagina come stiamo messi Ok bene vediamo se facciamo Una rivincita o cambiamo personaggio Cambiamo personaggio meglio 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 Anche perché Boh così Voglio provare un po' qualcosa di diverso Ogni volta Rimanere sempre sugli stessi personaggi Poi è brutto Quindi direi Rock Lee Con Neji Sì E Ten Ten E Ten Ten Squadra guy Come ho detto più volte Rock Lee bambino mi piace decisamente di più di quell'adulto Perché Boh Non lo so No Neji Bambino Che anche in questo caso è molto più forte dell'adulto Non lo so perché Queste due versioni bambine sono più veloci Più veloci più tutto Oh 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 Ahia E' finita Che è sto ronzo comunque Odio quel cazzo di Neji Oh Oh No Metta Sì Un po' di Chaka Che non è mai male Ah Merda Oh Motta Rengue Bambino No 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 Che culo Merda, 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 merda Ok Ah Oh Almost there ain't get bomb No 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 Cazzo, cazzo, cazzo No Mi ha fregato Merda Non avevo più sostituzioni Mannaggia Peccato Rocklee, peccato Avevi dato prova di essere Più o meno Un personaggio decente Però vabbè Non proprio Diciamo non proprio Poi Vediamo un po' Chiosci Con questo qua Con la farfalla Forma un legame speciale Con qualcun'altra Mi sa di... Mi sa... Ehi Ciccione Ciccione spettacolare Come legame Dai proviamo Farò pena Farò pena con questi due Però Legame ciccione Fantastico Ah, Mifune È uno di quei personaggi Che Trovarlo contro Comunque sempre Neji e Idan Come supporti Davvero Che palle Vabbè Se a lui piacciono quelli Si tenesse quelli A me piace provare un po' di tutto No Oh Grande ciccione Oh Idan Levati dalle palle Va Uh Vai ciccione No Ce la può fare È voglia Che può No Chossi No Oh Bomb No Oh Bomb Bomb No È finita Vai Chossi Ok Grande Bravo Chossi Si Il mio ciccione Anzi I miei ciccioni Preferiti Pensavo di Di fare una figura Di merda Di quelle platoniche Con questi due Invece no Wow Complimenti Complimenti Il potere di Chossi Potere ai ciccioni Ok Scusate Non so cosa sia successo Comunque Procediamo Procediamo Se Mi piace Mi piace L'idea Di Sasuke Naruto Bambini Mi piace molto Il risveglio Di Sasuke Bambino Oh Oh No No Rock Lee Bambino Si rivolta Contro di me Perché Perché Mi stai Facendo Questo Rock Lee Io ti Consideravo Come un Bambino Per me Ok Buono Buono Oh È lui Che faceva Tutti sti suoni No Ma va Che tecnica Di merda Dai Non vale Non vale Dovrebbero Proibirlo Dovrebbero Dovrebbero Oh Oh No Oh Vai Non è avuto Vai Oh E vai Adoro Sto risveglio No No Ah No No Si No Si Boh Non lo so Boh Ah Oh Che culo Wow Eh Sono stato Coglione Io Più che altro Che mi sono buttato In mezzo Alla mischia Quando lui aveva Tutte le sostituzioni Poi Sasuke Bambino Quando c'è risveglio Non è per niente Buono nelle combo Per nulla Ah Fatto rivincita Ok Oh no Cavolo Perché non riesco mai a prendere quel bastardo di Neji Ok Ok Buono Oh Oh Boom È finita Eh no Naruto ma che cazzo combini Ah Ah ma C'avevo una sostituzione L'ho usata perché Va bene Maledetto Rocklee bambino Quanto ti odio E quanto odio quei supporti Ok bene 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 Rifacciamo con gli stessi Visto che ne abbiamo fatte due per sbaglio Facciamo neanche una terza Ah Ah è tornato a scelta personaggio Ok ok Chi usare Chi usare Chi usare Proviamo gara Non mi piace per niente perché non è neanche veloce Però Non si sa mai Vediamo un po' Facciamo con Darui Difesa E L'attacco non so chi Con chi forma un legame Con chi Con chi con chi con chi Ah Ok Oddio Non mi ricordo che supporto Ha fatto automatico mi sa Kakashi Ha fatto automatico No Fortunatamente no Ma sempre quei supporti Nicola Perché Dai Cambiamo ogni tanto Proviamo delle combinazioni No Sempre quei supporti Vabbè Va bene Ma perché Guarda come lento Che sta succedendo Io non lo so Ma che cazzo Gara Oh Fai qualcosa Gara Bravo Bravo quel figlio Eh Muori Boom L'unica cosa buona Che fa Gara Sono le prese E non capisco Come mai solo Quelle Gara Gara Ah no Peccato No Fottuto Bastardo Ah Ah Che cazzo Wow Sacrificati Kakashi Sacrificati Per la patria Oh Che culo No 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 Andiamo Quanto odio Idan Quasi quanto Kimimar Un odio Viscerale Direi Boom E Gara Va E Gara Se ne va Troppo Troppo Lento Troppo 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 Lento Gara Sapete Cosa Non ho mai Provato A usare Naruto In effetti E non capisco Neanche Perché Cioè Durante la Storia Sei Quasi Del tutto Occupato Ad utilizzarlo Però Non l'ho mai Usato Durante Gli scontri Online Perché Teriosfera O Arte Remitica Arseng Quello Vai Lo voglio Con Sasuke E Sakura Proviamo Facciamo Difesa Dai Squadra 7 Che poi Tra l'altro Spoiler Penso che sia Ciò che sta succedendo Ultimamente Nel manga Si sono ritrovati Tutti quanti Vabbè Fine spoiler Ogni tanto Mi capita Di Guardare Qualcosina Ma giusto Perché Magari Trovo i link Su facebook Cose del genere Che dicono E' successo Questo Questo Quest'altro E quindi Un altro Neji Odio Per il suo Risveglio Giustamente Ha cambiato Quello Quello Grande Con quello Piccolo Mi sembra Più che giusto Iniziamo col botto Cazzo Oh 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 Ma che cazzo Che è successo Io non lo so Ogni tanto mi perdo Bravo Sasuke Oh cazzo No Oh Bijou Bla 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 Boom Addio No Uh la Senga Ah non ho più Chaka per farlo Ecco perché Oh Appena in tempo eh Boom Nauto Attento Merda Perché Naruto Perché Perché l'hai fatto Avevi tutte le sostituzioni Non le hai usate Bravo genio Bravissimo Bravo Naruto Bravo Così si fa Oh Grande Sa Sa Ok bene Almeno giocare per L'80% del gioco con Naruto è servito a qualcosa in questo caso Ah a proposito Mi domando se cambi qualcosa Tra Ah si Cambia Cambia si mi ricordo Ah deve andare Va bene Ciao Nicola È stato un piacere Quindi ragazzi Finisce qua questo gameplay Ricordate di mettere mi piace E commentare E mettere nei preferiti se volete Perché mi aiuta tanto Iscrivetevi se vi va E un ciao qui dal vostro Vale93ba Ciao Ciao